Ma anche il piano anticorruzione al comune di Pescara, la data di scadenza per presentarlo era il 31 gennaio scorso e ad oggi nulla è stato prodotto. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che dopo diversi controlli mette in luce anche la mancanza di trasparenza sulle pubblicazioni del sito ufficiale del comune che viene messa a confronto con quello di un comune virtuoso, quello di Lucca. Da qui l'idea di istituire una commissione ad hoc che vigili costantemente. Chiediamo un consiglio straordinario sul tema dell'anticorruzione e soprattutto una commissione di anticorruzione e trasparenza perché riteniamo doveroso e necessario intervenire nel comune di Pescara. Abbiamo fatto infatti un'analisi e abbiamo evidenziato che moltissime delle direttive, delle indicazioni date dall'ANAC all'autorità nazionale dell'anticorruzione non sono state rispettate nel comune di Pescara. Manca ad oggi nonostante la scadenza del 31 gennaio il piano appunto triennale di prevenzione alla corruzione. Manca il piano della trasparenza, manca il piano della performance, mancano moltissime delle azioni e delle misure correttive proprio per evitare il rischio corruttivo e noi vogliamo attraverso questa commissione, portando anche il tema in consiglio comunale invece attivare una tolleranza a zero alla corruzione con un giro di vite estremamente forte e stringente. Tra le carenze annoverate dai grillini c'è la mancanza di rotazione dei dirigenti, l'attività di formazione sulle attività di anticorruzione e inoltre, sottolineano i consiglieri 5 Stelle, secondo l'ANAC per corruzione si intende ormai un più ampio concetto che viene riassunto con cattiva gestione, quindi tutte le attività che formano la cosa pubblica. Quelli legati al conflitto di interesse, all'incompatibilità dei dirigenti, alla trasparenza, agli incarichi, ai tempi dell'amministrazione, appunto ai tempi delle procedure amministrative, sono quelle aree che l'ANAC appunto sottolinea come critiche, come strategiche e sulle quali dobbiamo intervenire. Ci sono una serie di indicazioni che devono essere rispettate e noi pretendiamo che vengano rispettate.